e accura ok, vieni 1, 2, 1, prima 1, 2, 3, 4 quando io ho fatto questo, da su su, in olcini qui, in occhio boom anche gli occhi 1, 2, 3, dietro pan pan 1 pan e le rende il servizio viva questo lupito perché da qui voi le ha ascoltate ecco ok, va? 1, 2 pan 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 vieni ear tant hip fat